Si terrà giovedì 3 dicembre a iniziare dalle ore 17 alla presentazione del libro La cultura orizzontale scritto dal presidente del premio strega Giovanni Solimene e da Giorgio Zanchini, editori La Terza. L'evento rientra nell'ambito di biblioteca digitale, aggregazione e inclusione sociale nella nuova biblioteca di comunità, un progetto promosso dal comune di Capaccio Pestum in sinergia con diversi partner, tra enti locali, istituti scolastici e associazioni, sostenuto con il bando Biblioteca e Comunità 2019 dalla Fondazione Conil Sud, dal Centro per il Libro e la Lettura Cepel e realizzato in collaborazione con Anci. Nel rispetto delle normative anti-covid-19 l'evento si terrà sulla piattaforma Zoom. Per iscriversi e partecipare basta scrivere all'indirizzo la tua biblioteca digitale 2020-gmail.com. A discutere della cultura orizzontale con gli autori sarà la professoressa Anna Maria Vitale, docente dell'Istituto Superiore Pacinotti di Scafati e responsabile del progetto Biblioteca Digitale. Previsti i saluti istituzionali del sindaco di Capaccio Pestum, Franco Alfieri e dell'assessore alla cultura della città di Capaccio Pestum, Antonella Di Filippo. Oltre all'autore Solimine, docente dell'Università La Sapienza e presidente del Premio Strega, interverrà anche Vincenzo Santoro del Dipartimento Cultura e Turismo Anci. Al termine della presentazione seguiranno gli interventi organizzati dai gruppi di lettura del Comune di Stella Cilento, Filitalia, Chapter Salerno, Associazione Italiana Biblioteche Campania, del Centro Studi Pietro Ebner, dell'Associazione Abracciami, dell'Associazione Culturale Mini Creative e dell'Oratorio di Canna Longa. Il Comune di Capaccio Pestum è fortemente impegnato nella promozione e nella valorizzazione delle tradizioni del territorio in tutte le sue espressioni e della cultura in generale, dichiara il sindaco Alfieri. In un periodo particolare, difficile come quello che stiamo vivendo, parlare e riflettere sugli sviluppi futuri del settore culturale non è solo necessario, ma è un dovere. La cultura in questo momento rappresenta una leva fondamentale su cui puntare per innescare un processo strutturato di rinascita e risanamento delle proprie ferite inferte dall'emergenza da Covid-19.